Di nuovo Tremonti insiste con la storia dei falsi invalidi per risanare il nostro Paese. Io credo, ritengo, che questa idea sia unica in Europa. Tra l'altro il nostro Ministro ne va anche fiero. Io vorrei spiegare al nostro pubblico chi percepisce l'assegno di invalidità nel nostro Paese. Allora, bisogna avere un'invalidità pari al 74%, ad oggi è così. Sì, oltretutto questo assegno di invalidità è di ben 256 euro, avete compreso bene. E non bisogna superare i 4.400 euro reddito personale l'anno. Quindi vuol dire che andiamo a colpire, che vanno a colpire i più poveri tra i poveri. Questo non è possibile. Io credo invece che un Ministro serio, un governo serio, avesse dovuto dire altre cose, tipo piani straordinari di lavoro per le persone che rientrano in settori assistenziali. Quindi più lavoro, più formazione, più opportunità. Ma pensare di risanare il Paese togliendo questo misero assegno di beneficenza ai poveri che non hanno nient'altro, nient'altro di reddito personale, questo significa veramente cinismo. Cinismo. Oltretutto sono molto pericolosa perché sta creando nella società italiana un atteggiamento di diffidenza verso gli invalidi. E questo non va bene perché separare le classi, creare discrimini è molto pericoloso. Gli uni contro gli altri in una società di convivenza pacifica non è auspicabile. Porta male a tutti, a chi governa e a chi vive in questo Paese.